Montecornacchia è bella sbiancata come possiamo vedere lì in alto si ritorna qui vediamo un po' di immondizia che è stata già si inizia a essere raccolta qua c'è un piccolo ciuffo che è già nato e qui abbiamo un albero che è venuto giù di qua guarda qui ragazzi attenzione le cozze incredibili come pulisci un attimo si crea una situazione di cozza amara cozze ostriche sicuramente non sono ostriche di montagna comunque ragazzi sembra quasi come se fossero vogliono fare una spazzatura rosa ripreso inizierà a fare i primi boccioli bene questa è molto bella e niente qui abbiamo invece un albero che sembrerebbe che sia spezzato una mareno e sta accadendo qua sul tratturo si parte bene allora